L'angelo annunciante L'angelo annunciante fa parte del complesso scultorio dell'Annunciazione di Francesco Mocchi. L'artista venne ingaggiato dall'opera del Duomo su raccomandazioni di Mario Farnese. Fu scolpito nel 1603 e, cinque anni dopo, sarà affiancato dalla Vergine Annunciata. Rispetto a questa seconda realizzazione, una grande distanza sembra esserci tra le due figure e lo stile dell'angelo sembra più moderno, quasi anticipando il barocco. Le veste vorticose e ricche di volume, che danno all'opera un forte senso di dinamicità e pathos. Il chiaroscuro è molto marcato, soprattutto nei capelli, nelle ali e nelle vesti. In realtà, questa figura guarda ancora fortemente alla tradizione manierista, ma ne rilancia gli elementi formali con una capacità compositiva e tecnica del tutto nuova, davvero sorprendente. Per evidenziare maggiormente il contrasto tra luce e ombre, Angelo e Madonna sono posizionati in maniera invertita rispetto alla consuetudine iconografica. In questo modo, l'angelo si trova investito dalla luce del rosone, proveniente dalla cappella laterale di San Brizio, che aumenta l'effetto spirituale dell'opera. Rispetto alla Vergine, la scultura dell'angelo è più piccola di dimensioni. Così facendo, Moki rende l'idea che esso sia ancora lontano da Maria e che stia scendendo dal cielo. In questo senso, un elemento indicativo è la nuvola sottostante, su cui la figura poggia, anch'essa corticosa e dinamica. Nella scena che si compone, l'arcangelo Gabriele è raffigurato con la bocca aperta, sta parlando a Maria, per spiegare quale sarà il suo ruolo nel progetto divino. Il braccio sinistro indica all'alto, per mostrare da chi venga il messaggio che le sta consegnando. Nella mano destra, secondo l'iconografia classica, egli teneva il giglio, che purtroppo è andato precocemente per lui. Moki dimostra così una grande capacità espressiva e tecnica, realizzando un'opera plastica e vibrante. Ma di una grazia in leggerita, è davvero straordinaria. La Madonna fa parte dell'Annunciazione, gruppo scultorio realizzato da Francesco Moki tra il 1605 e il 1608. La Madonna e l'Angelo sono posizionati accanto all'altare per tre importanti motivi. Perché alle spalle delle due statue viene rappresentata la storia di Maria attraverso gli affreschi e l'Annunciazione è il primo momento della sua storia. In secondo luogo è il punto in cui in chiesa si annuncia la preghiera e per ultimo il rosone regala la giusta luce a questo complesso. La Madonna viene rappresentata in piedi, mentre si sta alzando per fuggire dallo spavento per l'arrivo dell'Angelo e avvicina con la mano la veste sul volto per proteggersi dai fasci di luce e dal forte vento. La bocca aperta e gli occhi sbarrati dalla paura sono le caratteristiche che differenziano questa Madonna da quelle tradizionali e rappresentano anche la sua giovanità. La figura della Madonna viene criticata perché è molto massiccia, viene rappresentata con vesti aderenti che sottolineano le sue forme, non rispettando i canoni tradizionali che la chiesa ha concordato. Non è una Madonna convenzionale, anche perché vicino a lei c'è una semplice sedia e non un trono. Quello che Moki ha fatto è rappresentarla nella maniera più reale possibile, ricordando la sua giovanità e le sue umili origini. La bellezza di quest'opera è dovuta alla perfetta rappresentazione del lato umano. Grazie a tutti!